Non trovi mai una sala a riunioni libera e quando la usi c'è sempre qualcosa che non funziona. Noi ti capiamo. Ecco perché abbiamo sviluppato Space Booking. Ora puoi organizzare una riunione dal tuo sistema di posta o dallo smartphone. Nel caso di una riunione imprevista, è possibile individuare la sala disponibile più vicina con una rapida occhiata al monitor di piano. Il pannello fuoriporta visualizza lo stato di occupazione della sala e ti consente di effettuare una prenotazione istantanea per avervi accesso. Space Booking scongiura così l'occupazione indisciplinata degli spazi collaborativi. Per gli invitati che devono partecipare al meeting, un sistema integrato di reception virtuale accompagna l'ospite nelle fasi di accesso e check-in. Il transparent display posto all'ingresso completa l'accoglienza e notifica i singoli arrivi agli interessati. Una volta nella meeting room, puoi estendere la durata della riunione o controllare intuitivamente la domotica di sala, regolando l'illuminazione e il condizionamento. Space Booking è anche in grado di attivare scenari di condivisione semplicemente selezionando l'input e l'output desiderati. Si può presentare dal proprio notebook sul monitor e poi passare con un semplice tocco a un altro scenario di proiezione. Il sistema adatterà l'ambiente per una migliore qualità visiva. Il modulo Presenter consente a chiunque di condividere i propri documenti da una chiavetta o da un file di rete. La funzione Controller consente di eliminare tutti i telecomandi dei dispositivi di sala, estendendo il meeting in videoconferenza con pochi semplici tocchi, condividendo le tue presentazioni. Il servizio di videoassistenza di NOC dà accesso diretto a un tecnico dedicato, che può configurare la sala per l'utente o fornire assistenza in caso di malfunzionamento. L'efficacia di ogni meeting è garantita dal servizio Morning Check, attraverso il quale viene schedulata la manutenzione preventiva delle sale. Il centro di controllo pianifica gli interventi tecnici, assicurando in tempo reale il corretto funzionamento di tutti i dispositivi. Grazie.